ciao ragazzi stavo sostituendo il galleggiante del serbatoio del gasolio ho preso questo lungo 55 come vi ho detto nel primo post e di provarlo prima di montarlo per evitare che poi magari devo rimontare questo perché magari è sbagliato e fare il lavoro due volte sto provando ho attaccato i due fili lo sto provando alle varie posizioni per vedere se correttamente lui va e in effetti correttamente lui va si va aggiornando ogni 2-3 secondi però il risultato è giusto quindi procediamo con lo svitare le viti e lo estraiamo bene estratto il galleggiante vediamo che c'è pure l'alga e che comunque l'ho voluto cambiare con quella serie lì perché questo diciamo è quello tradizionale con la testina strisciante e quindi questo a lungo andare si consuma vi ringrazio per la visione se questo video è stato utile ricordate di mettere mi piace e iscrivervi al canale e ci vediamo a un prossimo video